Il crollo del mercato russo dell'auto continua a mietere vittime, l'ultima in ordine di tempo è Bo Anderson, il numero uno del principale costruttore del paese, Aftovaz. Ad annunciare l'addio dello svedese è stato l'azionista di maggioranza Renault, quello stesso che nel 2013 lo scelse per le sue doti di ristrutturatore. Ma davanti a una delle peggiori recessioni che la Russia moderna abbia mai visto, con conseguente inchiodata delle immatricolazioni, risparmi e tagli non sono bastati. Nel 2015 la casa della Lada è andata in rosso di un miliardo di euro.